Al noto artista internazionale Mario Guarino sono state consegnate simbolicamente le chiavi della città di Liberi, dove per anni ha insegnato educazione artistica ai tantissimi studenti dell'epoca, e siamo negli anni Sessanta, e che ancora oggi lo ricordano con stima, tanto che lo hanno voluto incontrare dopo tantissimi anni, per la prima volta lo scorso anno. Quest'anno invece il comune di Liberi, con in testa il sindaco Alfonso Ricciardi, con una cerimonia sobria ma toccante, ha voluto sancire la continuità di questo bellissimo rapporto fra l'artista di origini napoletane, ma ora residente a Milano dove dirige la sua scuola di pittura, e la cittadinanza, consegnantogli la prestigiosa onorificenza che lui ha accettato visibilmente commosso, proprio perché inattesa. Dalla vita io mi aspetto sempre un qualcosa di inatteso, che sia piacevole, spiacevole, c'è sempre qualcosa che ci dà una gioia, magari anche un dolore, quindi in questo caso è stata una gioia, un piacere, insomma. Per cui ecco, il ricevimento da parte di questa persona illustre, che è il vostro nuovo sindaco, il piacere è stato di ricevere anche le chiavi della città, quindi un simbolo che ha tanta importanza e un significato profondo, che è un atto anche di molta stima da parte di chi offre questo e di chi lo riceve maggiormente, come nel caso mio, perché qui io ho lasciato un po' parte della mia anima e ho ritrovato in tutti voi la stessa cosa. Da Liberi è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it